Si sono incrociate solo negli ultimi tre anni ma ormai si conoscono molto bene e soprattutto è il Ravenna che conosce molto bene la San Maurese visto che nei sei precedenti non ha mai vinto ma ha quasi sempre perso contro la squadra giallorossa, una squadra capace di vincere addirittura cinque volte e pareggiare soltanto in una occasione nei precedenti contro il Ravenna. Il Ravenna che deve anche riscattarsi dopo la sconfitta con Bellaria ci prova al quarto con il sinistro debole da parte di Ambrogetti, pallone che si spegne sul fondo, al dodicesimo si presenta invece la San Maurese Traini, trova sulla sua strada Magnani che deve però concedere il calcio d'angolo, succede poco o nulla nel primo tempo, arriviamo addirittura al quarantacinquesimo, controlla il pallone Giannelli dopo la rovesciata di Maini, Scarica per Tartabini che trova il corridoio giusto per Simoncelli, pallone alto sopra la traversa, si va a riposo con una 0-0 che non fa una grinza ma nella ripresa il Ravenna prova a mettere il turbo, ci prova con una percussione Guagneli, chiuso però al secondo minuto, andiamo al dodicesimo, scambio prolungato, poi Innocenti che scarica per Ambrogetti, cerca anche lui un corridoio, trova il tocco di punta e trova la deviazione provvidenziale. Da parte di Stella andiamo al minuto successivo, la punizione di Righini per Maini, alto sopra la traversa, dalla parte opposta la San Maurese non è uscita di scena, andiamo al ventitresimo, Bonandi scarica il velo di Traini, dalla parte per Simoncelli, alto di pochissimo, andiamo al ventinovesimo, rimessa laterale, la palla che viene prolungata di gran carriera, ci prova Caidi, non trova la porta, siamo ormai agli sgocceli, il Ravenna ha inserito anche Petrascu che tocca il pallone, poi Maini cerca Guagneli che va vicinissimo al pallo più lontano con questo sinistro, arriviamo al 42esimo, ancora in azione la San Maurese, il tocco in profondità di Scarponi per Simoncelli, Simoncelli accentua la caduta, riceve il secondo giallo, riceve l'espulsione, un'espulsione che lascia la San Maurese in dieci ma che la San Maurese riesce comunque ad evitare che abbia conseguenze nefaste, una San Maurese che porta questo risultato, lo 0-0, sino al novantesimo, 1-0-0 dunque che è il punteggio con cui si conclude il match tra Ravenna e San Maurese.